Falciomercato, che momento ha? È un momento che è passato il 30 di giugno dove tutte le squadre, soprattutto le grandi, erano impegnate per sistemare i giocatori, i bilanci e quant'altro e oggi c'è un momento di stanca, non si muove nulla però è chiaro che poi tutte le squadre hanno, credo, delle idee molto chiare su quello che devono fare e così come anche il Pescara ha le idee chiare su quello che deve fare Sulle idee del Pescara chiederò sul reparto offensivo, ma in mediana Busellato sembra praticamente quasi fatto Palmiero quanto è vicino e se in caso dovessero arrivare tutte e due implica la partenza, questo è la partenza di Brugman No, implica la partenza di nessuno perché Brugman, sempre detto il nostro capitano è solo a condizione che abbia una richiesta importante che riguardi la sua carriera può andare via altrimenti Brugman è un giocatore troppo importante per noi Chiusa completa con il Benevento, chiusura completa? No, ma il Benevento non me l'ha mai chiesto Brugman, quindi stiamo parlando del nulla Quando arriverà una richiesta da parte di società di serie B, di serie A se è di serie B sicuramente devono essere più importanti del Pescara la valuteremo, però a oggi non c'è nessun tipo di richiesta e quindi Brugman è a tutti gli effetti un giocatore del Pescara che ci teniamo stretti anzi direi strettissimo e poi se dovessero arrivare delle situazioni si vedrà e per gli altri giocatori nel momento in cui decideremo di prenderli sappiamo già quelle che abbiamo in rosa e quindi non è che faremo una cozzaglia di giocatori in un ruolo e poi magari rimaniamo scoperti in un altro noi sappiamo quali sono le nostre priorità Ma Palmiero potrebbe coesistere con Brugman? Io credo che sia Palmiero che Brugman possono fare tutti e due i ruoli di centrocampo quindi non credo sia un problema però ripeto al momento in quel ruolo siamo abbastanza coperti non abbiamo necessità di fare ci sarà il rientro di Melegoni che è già stato fatto sostanzialmente quindi è solamente dare l'ufficialità a giorni poi prenderemo un ragazzo giovane dall'Atalanta che è un ragazzo di un prospetto importante che risponde al nome di Dabbi che lo porteremo a Pescara e detto questo aspettiamo gli eventi per capire quanti giocatori devono entrare e quando devono uscire adesso il nostro impegno è tutto mirato all'attacco quindi a quelli che poi dovranno fare i gol e su quello dobbiamo cercare di non sbagliare prima di chiudere con l'attacco uno sguardo al reparto arretrato quanto è vicino alla cessione di Perrotta al Bari quanto quella di Delgrosso al Monza e il rinnovo di Campagnaro se ce lo può confermare Delgrosso non va da nessuna parte Perrotta al momento non ha nessuna richiesta quindi credo che valga lo stesso discorso di Brugman Campagnaro è un discorso a parte perché con Campagnaro quando rientrerà dall'Argentina decideremo che cosa fare Reparto offensivo Tutino un altro obiettivo ma guardiamo agli attaccanti centrali mi dice qual è il sogno del Pescara? Ma no il sogno noi vogliamo portare i giocatori che siano funzionali al nostro modo di giocare un giocatore che mi piacerebbe portare che abbiamo anche già cercato nel mercato di gennaio è Tuminello se sarà possibile magari sarà il primo rinforzo del Pescara Capitolo ritiro Presidente avete cambiato un po' quello che era il programma precedente dal 14 a Palena poi concluderete a Lucoli cosa è successo? No è successo che purtroppo quest'anno a maggio ha fatto freddo e ha nevicato quindi il ritiro di Lucoli si trova un po' in ritardo sotto questo aspetto e quindi anticipiamo Palena e magari finiamo con Lucoli se sarà pronto tutto qua non è successo assolutamente nulla Palena l'avremmo comunque fatto ugualmente perché è una cittadina che ci ha sempre accolto in maniera importante il sindaco si mette a disposizione la cittadina si mette a disposizione del Pescara oramai da qualche anno e quindi nel modo più assoluto non avremmo fatto mancare la nostra presenza a Palena c'era questo discorso c'è ancora questo discorso di Lucoli è chiaro che anche lì si sono prodigati per fare il lavoro che serviva però purtroppo il mese di maggio il freddo la neve che è venuta giù a maggio ha rallentato un po' i tempi voi sapete come la penso io il Pescara è una società abruzzese deve stare in Abruzzo avremmo avuto la possibilità di andare in tutte le parti d'Italia anche ospiti però i tifosi del Pescara devono avere la squadra vicina a proposito 83 anni e non sentirli auguri Pescara sì 83 anni e non sentirli è un po' come Marinelli diciamo l'ultimissima prova presidente faccio tre nomi di attaccanti mi dica solo sì uno è possibile Melchiorri, Ceravolo, Ciofani ma io credo che di questi tre non sarà possibile nemmeno uno